Il futuro nelle zone colpite dal terremoto di tre anni fa è di nuovo scuro. L'emergenza coronavirus ha bloccato quel po' di ricostruzione che negli ultimi tempi era stata avviata. Amatrice oggi si ritrova isolata con l'economia di nuovo in ginocchio e con il baratro della povertà imminente. Piccoli artigiani, ristoratori, braccianti sono di nuovo fermi, non guadagnano. Da dove mangieremo domani? Siamo già in una situazione molto difficile. Il 30-40% arriveranno a questa problematica. Restare a casa in questi moduli da 20 metri quadrati non è semplice. Valerio di professione fa il panettiere, vive da solo. Il 23 agosto ha perso tutta la famiglia, si è salvata solo la sua cagnetta. Ha perso tutto, ma non la fede. Da quella mattina dico signora mia, sto nelle tue mani. E sinceramente ti devo dire che le mie risposte ce le ho avute, ce le ho tutti i giorni. Non avendo più una famiglia, ho bisogno di rendermi utile a persone che hanno bisogno di aiuto. Ed è proprio la solidarietà che anche qui ad Amatrice fa la differenza. Per chi non ha più un lavoro, per chi è isolato, per chi è malato. Un po' di genere alimentare c'è una ragazza qui, che è la madre invalida, che lavora giù al supermercato e mi porta qualcosa a lei. Un po' di genere, un po' di genere, un po' di genere.